Buongiorno amici di Legnano Web TV, sono qui a Parco Castello per parlare di consigli delle preparazioni della corsa. Pietro, per chi vuoi affrontare una corsa o stretching? Cosa ha bisogno prima di iniziare a fare la corsa, per favore? Per chi non ha mai corso il consiglio è quello di iniziare con delle camminate, quindi non iniziare subito a correre ma iniziare a camminare, fare per esempio una 20 minuti, una mezz'oretta e camminata. Poi magari dopo qualche settimana alternare camminata a una corsa lenta, ma molto lenta e poi gradualmente, dopo magari un mesetto, un paio di mesi, fare una mezz'oretta di corsa e poi aumentare progressivamente. Cominciare gradualmente. Per chi poi ha iniziato a correre, quindi comincia a correre una mezz'oretta, un'oretta, è chiaro che prima di correre è necessario fare almeno qualche esercizio di stretching, ma senza forzare, senza esagerare, perché se esagerano lo stretching a freddo si ottiene l'effetto opposto, cioè si corre il rischio di creare dei danni alla muscolatura. E quindi, diciamo, 5 minuti, 10 minuti di stretching e poi iniziare comunque qualsiasi corsa, almeno 10 minuti di riscaldamento correndo lentamente. Pietro, ma tu fai anche per passione o solo per le sport? Ma io principalmente lo faccio per stare bene, perché diciamo, correre anche, io ho iniziato a correre una volta alla settimana, anche quel correre una volta alla settimana comunque ti fa star bene. Sia mentalmente che fisicamente, perché ti permette di scaricare lo stress accumulato durante la settimana lavorativa e quindi poi correndo anche due volte alla settimana, poi senti proprio l'angicista di correre, cioè come crea una dipendenza positiva. Come è stato questo periodo per voi? Ecco sì, è stato quindi il periodo, quindi da marzo a maggio, al 4 maggio è stato un periodo difficile, no? E ognuno di noi, chi ha potuto, si è allenato in casa, magari col tapirulano, chi ha potuto il tapirulano oppure con i rulli. Io invece, diciamo, sono stato completamente fermo, quindi sono stato quei due mesi completamente fermo e ci è pesato, perché appunto non permetteva appunto di scaricare la tensione dei giorni, chiusi in casa, ma l'abbiamo comunque accettato, considerato il periodo storico è come un sacrificio da fare, perché appunto effettivamente è una situazione in cui l'unico rimedio era stare chiusi in casa. Ciao, sono qui con Mirta, della Runners di Legnano. Ciao Mirta. È un sport così, non impegnativo, lo trovo un po' maschile. Come è per una donna? No, non ritengo che sia uno sport maschile, è uno sport che riguarda tutti, è uno sport bellissimo, soprattutto per le donne, perché ti consente di mantenere l'agilità, ti consente di dimagrire, che è la cosa più importante, soprattutto per chi come me non è più giovanissima e ti consente di stare in forma, quindi di ritrovare la dinamicità della vita. Mirta, avete fatto anche tante competizioni, marattone? Allora, nell'ultimo anno no, perché è stato sospeso tutto a causa del Covid, però in precedenza sì, abbiamo fatto tante maratone, Annalisa ha fatto degli Iron Man, è il nostro eroe, tutti quanti abbiamo partecipato a seconda delle nostre possibilità. Ci sono state persone che hanno corso gare di 5-10 km, anche semplicemente le gare paesane, che sono molto divertenti, e ci sono persone che hanno corso maratone più importanti, io ho corso la maratona di New York, tanti hanno corso la maratona di Boston, abbiamo fatto quella di Valencia, ci sono state tante occasioni anche in Italia, Firenze, Roma, Pisa, cioè è l'opportunità di divertirsi, correndo, preparandosi per bene, perché la maratona è molto impegnativa, però anche di condividere con i tuoi amici un'esperienza e vedere delle città nuove. Un'età per iniziare? Allora, tolto è premesso che i giovani possono iniziare il loro percorso dalle scuole, potrebbero essere incentivati fin da subito all'atletica in generale, all'atletica leggera. Chiaramente noi master arriviamo a iniziare a correre, a volte abbiamo delle ragazze di 23 anni che hanno vinto anche due volte la Legnano Night Run, oppure delle donne mature che si accingono a questo sport, come diceva Mirta, per vari motivi, per la forma fisica, per essere toniche e poi a volte per una sfida personale, proprio per raggiungere degli obiettivi da sedentario direi proviamo a fare per la prima volta 5 chilometri, 10 chilometri, poi si arriva a fare la mezza maratona, tanti si scoprono runner over 40, adesso la runner si è affacciata anche al mondo del triathlon, quindi abbiamo un bel gruppetto che ogni sera due volte alla settimana si accinge a nuotare, corre e pedala. Vi ringrazio tantissimo la Hunner di Legnano, ringrazio Mirta, volete dire qualcosa, volete invitare? Volentieri, noi vi ringraziamo perché siete stati molto gentili, ci avete dato la possibilità di farci conoscere, noi aspettiamo tutti coloro che volessero iniziare a correre perché è uno sport democratico, basta un paio di scarpe e si può fare, non c'è un'età, non c'è un limite, se vi volete divertire, se vi fa piacere imparare a correre e imparare a condividere questi momenti con i vostri amici, anche per migliorarvi sia atleticamente sia fisicamente, noi vi aspettiamo, ci divertiremo moltissimo. Ciao a tutti!